Una scampagnata Da cinque mesi si erano proposti di andare a far colazione nei dintorni di Parigi, il giorno nomastico della signora Dufour che si chiamava Petronil. Perciò, siccome quella gita era attesa con impazienza, tutti si erano alzati assai di buon'ora quel mattino. Il signor Dufour, presa prestito alla vettura del lattaio, guidava personalmente. Il piroccino a due ruote era assai decoroso. Aveva un tetto sostenuto da quattro aste di ferro alle quali erano attaccate le tendine che erano state alzate per vedere il paesaggio. Solo quella posteriore garriva al vento come una bandiera. La moglie, a fianco del consorte, se ne stava tronfia con uno straordinario vestito di seta color ciliesa. Dietro, su due sedili, stavano una vecchia nonna e una fanciulla. Si scorgeva inoltre la capigliatura gialla di un ragazzo, il quale, in mancanza di sedile, si era steso sul fondo, e di lui appariva soltanto la testa. Dopo aver seguito l'Evnium degli Champs-Élysées e dopo aver superato le fortificazioni della porta Mailot, si erano messi ad osservare la contrada. Nell'arrivare al ponte Nuit, il signor Dufour aveva detto «Ecco la campagna, finalmente!» E sua moglie quel segnale. Si era commossa sulla natura. Al piazzale di Courbeuat erano stati presi d'ammirazione davanti alla vastità degli orizzonti. A destra, laggiù, c'era Argentoil, il cui campanile si ergeva. Sopra apparivano le collinette di Saint-Noix e di Moulin d'Orgemont. A sinistra, l'acquedotto di Marlì si stagliava nel cielo chiaro del mattino, e si scorgeva anche in lontananza la terrazza di Saint-Germain, mentre, di fronte, all'estremità di una catena di colline, terre smosse indicavano la nuova fortezza di Cormel. In fondo in fondo, in grandissima lontananza, oltre le pianure e i villaggi, si intravedeva a cupo il verde delle foreste. Il sole cominciava a bruciare i volti. La polvere riempiva gli occhi continuamente, e ai due lati della strada si stendeva una campagna interminabilmente nuda, sporca e fetida. Mi sarebbe detto che l'avesse devastata una lebra, che corrodeva persino le case, poiché i scheletri di costruzioni sfondate e abbandonate, oppure casupoli incompiute per mancato pagamento degli imprenditori, protendevano i loro quattro muri senza tetto. Di quando in quando allignavano nel suolo sterile lunghi e ciminiere di fabbriche, unica vegetazione di quei campi putridi, dove la brezza primaverile portava in giro un profumo di petrolio e di schisto, mescolato a un altro odore ancor meno gradevole. Finalmente avevano attraversato la Senna un'altra volta, e sul ponte erano andati invisibilio. Il fiume splendeva di luce. Da esso si alzava un leggero vapore, pompato dal sole, e si provava una dolce quiete, un benefico rifriserio, a respirare finalmente un po' d'aria pura, che non aveva portato con sé il fumo nero delle officine o i miasmi dei luoghi di scarico dei pozzi neri. Un uomo che passava aveva fatto il nome del paese, Bazant. La vettura si fermò, e il signor Dufour si mise a leggere l'allettante insegna di un'osteria. Trattoria Poulain, pesce alla marinara e fritti, sale di riunioni, boschetti e altalene. Beh, signora Dufour, ti va? Ti risolverai finalmente? La moglie a sua volta lesse. Trattoria Poulain, pesce alla marinara e fritti, sale di riunioni, boschetti e altalene. Poi guardò a lungo la casa. Si trattava di una locanda rustica bianca, plantata sul ciglio della strada. Essa mostrava attraverso la porta aperta lo zinco lucente del banco, davanti al quale stavano due operai vestiti a festa. Alla fine la signora Dufour si risolse. Sì, va bene, disse. E poi c'è panorama. La vettura entrò in un vasto terreno, piantato a grandi alberi che si stendeva dietro la locanda e che era separato dalla senna soltanto dall'alzaia. Allora scesero. Il marito balzò per primo, poi aprì le brazze per accogliere la moglie. Il predellino, sostenuto da due aste di ferro, era lontanissimo, di modo che per raggiungerlo la signora Dufour dovette lasciar vedere la parte inferiore della gamba, la cui primitiva sottigliezza spariva ora sotto un'invasione di grasso che ricadeva dalle cosce. Il signor Dufour, già esilarato dalla campagna, le pizzicò vivacemente il polpaccio, poi, prendendola sotto le brazza, la depose pesantemente a terra, come un enorme fagotto. Ella si sbatté con la mano il vestito di seta per farne cadere la polvere. Poi guardò il luogo in cui si trovava. Era una donna sui trentasai anni, bene in carne, florida, e che rallegrava a vederla. Respirava a fatica, violentemente soffocata dalla stretta del busto troppo serrato, e la pressione di quell'orologio riversava nel suo doppio mento la massa fluttuante del petto sovrabbondante. Poi la fanciulla, posando la mano sulla spalla del padre, saltò leggermente da sé. Il ragazzo dai capelli gialli era sceso mettendo un piede sulla ruota e aiutò il signor Dufour a scaricare la nonna. Allora fu staccato il cavallo, che venne legato a un albero, e la vettura cadde in avanti, con le due stanghi a terra. Gli uomini, dopo essersi tolti le finanziere, si lavarono le mani in un secchio d'acqua, poi raggiunsero le signore che avevano preso posto sulle altalene. La signorina Dufour tentava di dondolarsi in piedi da sé, senza riuscire a darsi un impulso sufficiente. Era una bella ragazza di diciotto o vent'anni. Una di quelle donne che a incontrarle per strada stimolano in voi un desiderio subitaneo, e vi lasciano fino alla notte un'inquietudine vaga e un eccitamento dei sensi. Alta, sottile di vita e larga di fianchi, ella aveva la pelle scurissima, gli occhi grandissimi, i capelli nerissimi. Il suo vestito disegnava nettamente le sode rotondità della sua carne, accentuate altresì dagli sforzi dei reni che faceva per sollevarsi. Le braccia tese reggevano la corda sopra la testa, di modo che il petto le si alzava senza una scossa a ogni impulso che la dava. Il cappello, portato via da una ventata, le era caduto dietro, e l'altalena, poco a poco, prendeva l'aria, mostrando ogni ritorno le gambe sottili di lei sino al ginocchio e gettando in faccia ai due uomini, che la guardavano ridendo, l'aria delle sue sottane, più inebriante dei fumi del vino. Seduta sull'altra altalena, la signora Dufour gemeva in maniera monotona e continua. «Ciprien, vieni a spingermi su, vieni a spingermi, Ciprien!» Alla fine egli viandò, e rimboccatesi le maniche della camicia, come prima di intraprendere un lavoro, mise la moglie in moto con una fatica infinita. Aggrappata alle corde, ella teneva le gambe dritte per non toccare il suolo, e godeva ad essere stordita dall'andirvieni dell'ordigno. Le sue forme scosse tremolavano continuamente come gelatina su di un piatto, ma siccome gli impulsi aumentavano, ella fu presa da verticine e da paura. A ogni discesa lanciava un grido penetrante che faceva correre tutti i monelli del paese, e laggiù davanti a lei, oltre la siepe del giardino, scorceva vagamente un assortimento di teste birichine, alle quali le risate facevano fare smorfie diverse. Essendo venuta una serva, fu ordinata la colazione. «Frittura della senna, coniglio al burro, insalata e frutta», articolò la signora Dufour con aria importante. «Portate due litri di vino e una bottiglia di Bordeaux», disse il malito. «Prenzeremo sull'erba», aggiunse la fanciulla. La nonna, presa da tenerezza alla vista del gatto di casa, lo inseguiva da dieci minuti, prodigandogli inutilmente i più dolci appellativi. L'animale, senza dubbio internamente lusingato da quell'attenzione, stava sempre vicinissimo alla mano della vecchietta, senza però lasciarsi raggiungere, e faceva tranquillamente il giro degli alberi, contro i quali si strusciava a coda dritta, con un lieve ronfio di piacere. «Guarda», gridò all'improvviso il giovane dai capelli gialli, che esplorava il luogo. «Queste sì che sono barche coi fiocchi!» Tutti andarono a vedere. Sotto una piccola tettoia di legno erano appesi due splendide aiole da canottaggio, fini e lavorate come mobili di lusso. Esse giacevano a fianco a fianco, simili a due ragazze alte e snelle nella loro stretta e lucente lunghezza, e davano voglia di filare sull'acqua, nelle belle serate dolci o nelle chiare mattinate estive, di sfiorare le sponde fiorite, dove alberi interi immergono i loro rami nell'acqua, nella quale tremola l'eterno brivido delle canne, ed onde prendono il volo come lampi azzurri, rapidi martin pescatori. Tutta la famiglia con rispetto le contemplava. «Oh, queste davvero sono coi fiocchi!» ripete gravemente il signor Dufour, e ne mostrava i particolari da intenditore. Aveva fatto canottaggio anche lui nei suoi verdi anni, diceva. Anzi, con quelli in mano, e faceva il resto di tirare con sforzo i remi, si infischiava di tutti. Aveva dato certe sonate in corsa a più di un inglese un tempo, a Joinville, e scherzò sulla parola d'am, con la quale vengono designati i due scalmi che sorreggono i remi, dicendo che i canottieri, e non senza motivo, non uscivano mai senza le loro dam. Si accalorava nella perorazione, e proponeva ostinatamente di scommettere che, con una barca come quella, egli avrebbe fatto sei lega l'ora, senza affannarsi. «È pronto?» disse la serva che apparve all'ingresso. Tutti si precipitarono, ma ecco che al miglior posto, che la signora Dufour aveva scelto per insediarvi si, già designavano due giovanotti. Si trattava probabilmente dei proprietari delle Iole, perché erano vestiti da canottieri. Essi erano stesi sulle sedie, quasi coricati. Avevano la faccia annerita dal sole, e il petto coperto solamente da una sottile maglietta di cotone bianco, che lasciava scoperte le loro braccia nude, robuste come quelle dei fabbri. Costoro erano due bei pezzi di giovani, che ostentavano molto il loro vigore, ma che mostravano in tutti i loro movimenti quella grazia elastica delle membra che si acquisisce con l'esercizio, così diversa dalla deformazione che lo sforzo penoso, sempre il medesimo, imprime all'operaio. Essi si scambiarono rapidamente un sorriso vedendo la madre, poi uno sguardo scorgendo la figlia. «Cediamo il nostro posto», disse l'uno. «Questo ci farà fare conoscenza». L'altro subito si alzò, e tenendo in mano il berretto mezzo rosso e mezzo nero, offrì cavallerescamente di cedere alle signore il solo posto del giardino in cui non battesse il sole. Accettarono, profondendosi in scuse, e perché la cosa fosse più campestre, la famiglia si accomodò sull'erba, senza tavola né sedie. I due giovanotti portarono i loro piatti qualche passo più in là e si rimisero a mangiare. Le loro braccia nude che mostravano di continuo imbarazzavano un poco la fanciulla. Ella ostentava anche di voltare la testa e di non notarli, mentre la signora de Four, più audace, sollecitata da una curiosità femminile che era forse desiderio, li guardava ad ogni istante, confrontandoli probabilmente con rammarico alle segrete bruttezze di suo marito. Ella era franata sull'erba, con le gambe piegate alla maniera dei sarti, e si dimenava continuamente con il pretesto che delle formiche le erano entrate da qualche parte. Il signor de Four, messo di malumore dalla presenza e dalla cortesia degli estranei, cercava una posizione comoda che del resto non trovò, e il giovane dei capelli gialli mangiava silenziosamente come un lupo. Un bel tempo davvero, signore, disse la grassa signora a uno dei canottieri. Voleva essere gentile per via del posto che avevano ceduto. Sì, signora, egli rispose, venite spesso in campagna, o soltanto una volta o due all'anno, per prendere aria. E voi, signore? Vengo a dormirci tutte le sere. Ah, deve essere una cosa davvero piacevole. Sì, certamente, signora, ed egli raccontò la sua vita di ogni giorno, poeticamente, in maniera da far vibrare nel cuore di quei borghesi, privati d'erba e affamati di passeggiate nei campi, quello stupido amore per la natura che li tormenta tutto l'anno dietro il banco della loro bottega. La fanciulla commossa alzò gli occhi e guardò il canotto, e signor Dufour parlò per la prima volta. Questa sì che è una vita, disse. Aggiunse, ancora un po' di coniglio, cara? No, grazie, caro. Ella si volse di nuovo verso i giovanotti e indicando le loro braccia. Non avete mai freddo a quel modo, disse. Entrambi si misero a ridere e sbigottirono la famiglia con il racconto delle loro fatiche prodigiose, dei bagni fatti ancora tutti sudati, delle corse nella nebbia notturna e si percossero violentemente il petto per mostrare come risuonava. Oh, avete un aspetto robusto, disse il marito che non parlava più del tempo in cui le suonava agli inglesi. La fanciulla ora li sbirciava. Il ragazzo dai capelli gialli al quale era andato di traverso il bere tossì disperatamente annaffiando il vestito di seta color ciliegia della padrona la quale si stizzì e fece portare dell'acqua per lavare le macchie. Frattanto la temperatura diventava terribile. Il fiume scintillante sembrava una sorgente di calore e i fumi del vino annebbiavano le menti. Il signor Dufour scosso da un violento singhiozzo si era sbottonato il panciotto e la parte superiore dei calzoni mentre la moglie presa da soffocazioni si sganciava il vestito un poco alla volta. L'apprendista dondolava con aria allegra i suoi cappellacci color del lino e si mesceva un bicchiere dopo l'altro. La nonna sentendosi brilla stava tutta rigida e tutta dignitosa. Quanto alla fanciulla ella non lasciava apparire niente soltanto il suo sguardo si accendeva vagamente e la sua pelle scurissima si colorava sulle guance ed una tinta più rosea. Il caffè dia di loro il colpo finale. Si parlò di cantare e ognuno disse il suo ritornello che gli altri applaudirono con frenesia poi si alzarono con difficoltà e mentre le due donne stordite respiravano i due uomini del tutto sborniati si erano messi a far ginnastica. Pesanti flosci e con il viso paonazzo si appendevano goffamente agli anelli senza riuscire a sollevarsi e le loro camicie minacciavano continuamente di evacuare dai calzoni per sventolare come stendardi. Intanto i canottieri avevano messo le iole in acqua e tornavano cortesemente a proporre alle signore una passeggiata sul fiume. Signor Dufour vuoi? Te ne prego gridò la moglie. Egli la guardò con espressione da ubriaco senza capire. Allora un canottiere si avvicinò con due canne da pesca in mano a speranza di prendere qualche ghioczo ideale dei bottegai accese gli occhi spenti del bravo uomo che permise tutto quello che si voleva e prese posto all'ombra sotto il ponte con i piedi penzoloni sul fiume accosto al giovane dai capelli gialli che si addormentò accanto a lui. Uno dei canottieri si sacrificò prese la madre. Al boschetto dell'isola degli inglesi gridò allontanandosi. L'altra Iole se ne andò più lentamente. Il rematore guardava talmente la sua compagna che non pensava più a nient'altro ed era stato colto da un turbamento che paralizzava il suo vigore. La fanciulla seduta al posto del timoniere si abbandonava alla dolcezza di essere sull'acqua. Si sentiva presa da un'apatia mentale da una quiete delle membra da un abbandono di se stessa come invasa da una molteplice ebbrezza. Si era fatta assai rossa con la respirazione corta. Gli stordimenti prodotti dal vino intensificati dal caldo a torrenti che grondava intorno a lei faceva salutare al suo passaggio tutti gli alberi della sponda. Un vago bisogno di godimento un fermento del sangue scorrevano sulla sua carne eccitata dagli ardori di quel giorno ed era turbata anche da quel colloquio a quattro occhi sull'acqua in mezzo a quel luogo spopolato dall'incendio del cielo con quel giovane che la giudicava bella che le baciava la pelle con lo sguardo e cui desiderio era penetrante come il sole. La loro incapacità di parlare aumentava con il turbamento ed essi si guardavano attorno allora facendo uno sforzo egli le chiese come si chiamava Henriette e la disse guarda un po' io mi chiamo Henri soggiunse lui il suono delle loro voci li aveva calmati essi volsero il loro interesse alla riva un'altra aiole si era fermata e sembrava aspettarli quello che vi era là sopra gridò noi andiamo sino da Robinson perché la signora ha sete poi si chienò sui remi e si allontanò così rapidamente che presto scomparve alla vista frattanto un brontolio continuo che si distingueva vagamente da un po' di tempo si avvicinava velocissimo il fiume stesso sembrava fremere come se il sordo rumore salisse dalle sue profondità che cos'è e la domandò era la cascata dello sbarramento che tagliava il fiume in due sulla punta dell'isola e gli si perdeva in una spiegazione allorché in mezzo al fragore della cascata il canto di un uccello che sembrava lontanissimo lo colpì senti e gli disse gli usignoli cantano di giorno vuol dire che le femmine covano un usignolo quella non aveva mai uditi e l'idea di ascoltarne uno le fece sorgere nel cuore la visione di poetiche tenerezze un usignolo vale a dire l'invisibile testimonio dei convegni amorosi che Giulietta invocava dal suo balcone quella musica celeste concessa ai baci degli uomini quell'eterno ispiratore di tutte le languide romanze che schiudono un azzurro ideale ai poveri cuoricini delle fanciulline intenerite e l'avrebbe dunque ascoltato un usignolo non facciamo rumore disse il suo compagno potremo scendere nel bosco e sederci vicinissimi a lui la iole sembrava scivolare alcuni alberi apparvero sull'isola la cui sponda era così bassa che lo sguardo si spingeva nel folto del bosco si fermarono la barca fu legata Henriette si appoggiò al braccio di Henri e avanzarono tra le frasche chinatevi e gli disse e la si chinò e penetrarono in un inestricabile groviglio di liane di foglie e di canne in un rifugio introvabile che bisognava conoscere e che il giovanotto chiamava ridendo il suo salottino privato proprio sopra le loro teste appollaiato su uno degli alberi che servivano loro da riparo l'uccello continuava a sgolarsi lanciava trilli e gorgheggi poi filava lunghi suoni vibranti che riempivano l'aria e sembravano perdersi all'orizzonte spiegandosi lungo il fiume e volando via sopra le pianure attraverso il silenzio infuocato che appesantiva la campagna essi non parlavano per paura di farlo fuggire erano seduti uno accanto all'altra e lentamente il braccio di Henri circondò la vita di Henriette e la strinse con una dolce pressione e la prese senza collera quella mano audace e la allontanava continuamente via via che gli la riavvicinava non provando del resto nessun imbarazzo per quella carezza come se fosse stata una cosa del tutto naturale che altrettanto naturalmente e la respingeva ascoltava l'uccello smarrita in un'estasi aveva desideri infiniti di felicità improvvise tenerezza che la pervadevano rivelazioni di poesie sovrumane e un tale ammollimento dei nervi e del cuore che la piangeva senza saperne il perché il giovanotto ora la stringeva a sé e la non lo respingeva più perché non ci pensava l'usignolo tacque improvvisamente una voce lontana gridò Harriet non rispondere e gli disse sottovoce fareste volar via l'uccello nemmeno lei si sognava di rispondere rimasero un po' di tempo così la signora Dufour era seduta in qualche luogo perché ogni tanto si udivano vagamente i gridini della grassa signora che probabilmente l'altro cannottiere stuzzicava la fanciulla piangeva sempre pervasa da sensazioni dolcissime la pelle calda e punta dappertutto da solleticamenti sconosciuti la testa di Henri era sulla sua spalla e improvvisamente egli la baciò sulle labbra lei si ribellò furiosamente e per evitarlo si gettò indietro il supina ma egli le si buttò addosso coprendola con tutto il suo corpo inseguì a lungo quella bocca che lo sfuggiva poi raggiuntela gli applicò la sua e allora sconvolta da un tremendo desiderio e la stringendosi al petto gli rese il bacio e tutta la sua resistenza crollò come schiacciata da un peso troppo gravoso tutto era calmo intorno l'uccello si rimise a cantare lanciò dapprima tre note penetranti che sembravano un richiamo ad amore poi dopo un attimo di silenzio cominciò con voce affievolita lentissime modulazioni una brezza molle scivolò sollevando un mormorio di foglie e nella profondità delle frasche passavano due sospiri ardenti che si mescolavano al canto dell'usignolo e all'alito lieve del bosco un'ebbrezza invadeva l'uccello e la sua voce accelerandosi a poco a poco come un incendio che divampa o una passione che cresce sembrava che accompagnasse sotto l'albero un crepitio di baci poi il delirio della sua ugola si scatenò perdutamente per un tratto aveva deliqui prolungati grandi spasimi melodiosi a volte si riposava un poco filando solamente due o tre suoni leggeri che terminava all'improvviso con una nota acutissima oppure dava in una corsa pazza con un zampillio di gambe con fremiti a sbalzi come un canto d'amore furioso seguito da grida di trionfo matacque sentendo sotto di sé un gemi totalmente profondo che lo si sarebbe preso per l'addio di un'anima il suono si prolungò per qualche momento e morì in un singhiozzo erano molto pallidi entrambi quando lasciarono il loro letto di verzura il cielo azzurro pareva loro oscurato l'ardente sole era spento per i loro occhi si accorgevano della solitudine del silenzio camminavano rapidamente uno accanto all'altro senza parlarsi senza toccarsi perché sembravano diventati nemici inconciliabili come se fosse sorto un disgusto tra i loro corpi un odio tra le loro anime ogni tanto Henriette gridava mamma vi fu un gran trambusto sotto una siepe Henri parve di vedere una sottana bianca che veniva abbassata alla svelta su un grosso polpaccio e l'enorme signora comparve un po' confusa e ancora più rossa con l'occhio lucidissimo e il petto intumulto troppo accosto forse al suo vicino costui doveva aver visto cose davvero buffe perché il suo viso era assolcato da sorrisi improvvisi che vi balenavano suo malgrado la signora Dufour gli prese il brazzo con aria tenera e raggiunsero le imbarcazioni Henri che camminava davanti sempre muto accanto alla fanciulla parve di distinguere a un tratto come un grosso bacio che veniva soffocato finalmente tornarono a Besson il signor Dufour passatagli la sbornia si spazientiva il giovane dai capelli gialli mangiava un boccone prima di lasciare la locanda la vettura era attaccata nel cortile e la nonna già salita sopra si affliggeva perché aveva paura ad essere sorpresa dalla notte nella pianura dato che i dintorni di Parigi non erano sicuri furono scambiate strette di mano e la famiglia Dufour se ne andò arrivederci gridavano i canottieri un sospiro e una lacrima furono la risposta due mesi dopo come passava per la via dei martir Henri lesse su una porta Dufour chincaglierie entrò la grassa signora si spampanava al banco si riconobbero subito e dopo mille cerimonie gli chiese notizie e la signorina Henriette come sta benissimo grazie si è sposata ah la commozione lo attanagliò aggiunse e con chi ma con il giovane che ci accompagnava ricordate è lui il successore ah benissimo egli se ne stava assai triste senza saperne bene la ragione la signora Dufour lo richiamò e il vostro amico disse timidamente sta bene fateli i nostri saluti e ditegli di venirci a trovare quando passa di qui Rossimonto poi aggiunse mi farà molto piacere diteglielo non mancherò addio no a presto l'anno dopo una domenica di grande calura tutti i particolari di quell'avventura che non aveva mai dimenticato vennero ad un tratto alla mente di Henri così chiari e così desiderabili che gli tornò tutto solo nella loro camera nel bosco nell'entrare rimase stupefatto ella era lì seduta sull'erba con l'aria triste mentre al suo fianco sempre in maniche di camicia il marito il giovane dai capelli gialli dormiva coscienziosamente come un bruto ella diventò tanto pallida velendo Henri che gli pensò che stesse per svenire poi si misero a discorrere con naturalezza come se non fosse successo niente tra loro ma mentre egli le diceva che gli piaceva molto quel posto e che vi andava spesso a riposarsi la domenica pensando a tanti ricordi ella lo guardò a lungo negli occhi io ci penso tutte le sere disse su cara preferì sbagliando il marito credo che sia l'ora di andarcene